Continuano gli appuntamenti inseriti nel cartellone dell'estate gelese 2016 allestito dall'assessorato allo sport, turismo e cultura del comune di Gela. Questa sera in piazza Umberto I alle ore 21 l'associazione Demetra proporrà il concerto Musiche da Oscar con il gruppo Art Liricum Trio. Domani sempre alle ore 21 organizzata dalla parrocchia San Rocco, terza sagra del melone e dello schiaccino con accompagnamento musicale. L'evento si terrà nello spazio antistante la stessa parrocchia. Ancora domani alla stessa ora Disco Village al lungomare Federico II di Svevia e serata dedicata al teatro con la compagnia Antidoto presso l'arena all'aperto di Macchitella. Mercoledì sarà la volta della terza sagra del dolce con serata danzante e la musica di DJ Ivano Corso con l'organizzazione ancora una volta della parrocchia San Rocco nel piazzale dinanzi la chiesa. Sempre mercoledì alle ore 21 pontile sotto le stelle con l'associazione Innuendo al lungomare mentre Muretti di Macchitella sarà la volta del concerto live Rock Legend Notte di San Lorenzo a cura dell'associazione Gelica Folk.